Ma questo sole di oggi che ci illumina d'immenso e ci dà una carica bestiale, ma che bello è! Allora innanzitutto buon weekend a tutti, ma voglio anche ricordarvi che domenica scade la possibilità di fare acquisti con Guvi e partecipare al concorso pazzesco dove potete vincere una giornata con la lauretta e con me a fare proprio un'experience da Guvi Lover totale quindi si ride, si scherza, ci trucchiamo, facciamo un servizio fotografico quindi tutte le info le trovate qui, cliccate qui e partecipate! Sole, ma che opera d'arte, mi spieghi che cos'è? Pancake, crema di Guvi e fracola Che buona la crema al cocco col pancake, ma che bell'idea, brava amore mio! Ma qua abbiamo un'artista seria! Adesso questa è alla nocciola? Sì Ma che bello, brava amore! Super bello! Devastante, apri, apri, apri cece, apri! Sì No, non lo fai. Vedi che sembra che pesca dal terzo. No, è vero. È vero. Beh, devi rinforzare qua. Si forma un tubo. Si forma un tunnel. Non si può fare così. Giochiamo bene. Non è che si deve barare sempre. Tiratevi insieme, ok? Che sceglie. Che sceglie. Provechi. Baby. Grazie a tutti